Un gruppo, a meno che non sia stato Sensei Shikawa. Vi prego di scusarmi, signore. Non conviene cogliermi di sorpresa. Credevo foste con l'uomo che ha ucciso questi mongoli. Era un samurai, ma anziano, un arciere. Sensei Shikawa? Dov'è? Ha detto che sarebbe tornato a casa mia in un paio di giorni. Perché è a casa tua? Ho cibo e un fuoco. Non so cosa doveva fare, ma sembrava urgente. È possibile che abbia rintracciato Tomoe. Dov'è a casa tua? Qua vicino, ma sta arrivando una bufera e devo prima controllare le trappole. Va bene, verrò con te. Come ti chiami? Matsu, signore. Sì, senti. Grazie a tutti.